Per creare un profilo di accesso secondario in ePassant Manager, cliccare sul pulsante Utenti e profili di accesso. Cliccate quindi su Profili di accesso ad OR per selezionare un elenco di profili di accesso esistenti e scegliete quello da cui volete lavorare. A questo punto, fare clic su Altro e sull'opzione Aggiungi un profilo di accesso secondario e inserire un nome. Quindi, aggiungere altre porte, zone, giorni festivi e periodi di manutenzione per questo profilo di accesso. Infine, fare clic su Salva. A questo punto, il nuovo profilo di accesso dovrebbe apparire sul lato sinistro.